Buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo qui con la Gazzetta Meridionale, oggi a Tu per Tu con il senatore Ettore Buccero. Buongiorno senatore. Senta, io sono quasi emozionata a intervistarla perché lei è un vero personaggio nell'ambito barese e quindi perché di cose ne ha fatte tantissime e quindi... Lei dice sono famoso o famigerato? Famoso o famigerato. Comunque è noto per tante cose, insomma, tante questioni. Io ovviamente, lei mi permetterà, vorrei parlare oggi non solo di lei ma anche di ciò che ha fatto e della sua battaglia che ha portato avanti per quanto riguarda la cittadella della giustizia. Un argomento interessante, sì, credo che sia un argomento che mi sta molto a cuore, quindi ringrazio la Gazzetta Meridionale per questa occasione che mi dà. Perché questa è una mia battaglia che sto conducendo, forse i baresi se lo sono già dimenticato, dal 1982, quando all'epoca gli spazi del Palazzo di Giustizia, che l'unico era quello di Piazza Enrico De Nicola, erano già insufficienti. Quindi, quale consigliere dell'ordine, fui delegato ad andare insieme al Presidente della Corte d'Appelo dal Sindaco di allora, che era De Lucia. E gli ponemmo il problema dell'insufficienza degli spazi, che era diventata drammatica, perché all'epoca nel Palazzo di Giustizia c'era sia il civile che il penale e quindi non ce la facevamo più, pur essendo un Palazzo di Giustizia costruito e inaugurato da non molti anni. Però già da allora si rivelò l'insufficienza degli spazi. Quindi che cosa si pensò di fare? Beh, noi volevamo magistrati, avvocati, cancellieri, funzionali, tutto il mondo che gravita intorno alla giustizia, desideravamo, anche perché era una soluzione razionale, desideravamo un unico palazzo, ma molto più grande. Quando il Sindaco De Lucia era d'accordo su questa necessità, cioè condivise la necessità e convocammo l'allora sottosegretario della giustizia, che era l'onorevole Sorice, che era un avvocato di Bari, poi fra l'altro, e l'onorevole Sorice ci prospettò la difficoltà di trovare soldi sufficienti, perché il Ministero ne aveva pochi, per costruire un grande palazzo in sostituzione di quello all'epoca attuale. E optammo, ob torto collo, optammo per un secondo palazzo che si aggiungesse al primo. Il fatto sta, è inutile stare adesso a raccontare tutti gli sviluppi, certo è che il progetto di questo secondo palazzo incontrò gli scogli insuperabili del Consiglio Superiore della Magistratura. Per quale motivo? Ma perché era un progetto che era stato bocciato, tra i tanti motivi, una aula bunker che costava addirittura quasi 49 milioni, quando all'epoca la media del costo di una aula bunker era sui 15 milioni. Per cui abbandonammo, incominciamo a capire che la soluzione secondo palazzo da aggiungere al primo era una soluzione non più percorribile. Per cui ritornammo a chiedere tutto insieme, tutto il mondo della giustizia, ritornammo a chiedere di percorrere la via antica, cioè quella di un altro palazzo di giustizia molto più grande. E si fece avanti un privato, un imprenditore privato, che poi fra parentesi è la più grande impresa italiana dopo la Impregilo, ma la prima... Si può dire qual era? La Pizzarotti, la società per azione Pizzarotti di sede a Parma, che propose, offrì una soluzione che non si poteva rifiutare, cioè disse non voglio una lira di anticipo, perché i soldi, so che al Ministero soldi non ce ne sono, non voglio nulla d'anticipo, mi date, vi costruisco questo grande palazzo, secondo il progetto che voi stessi mi richiederete, e mi date soltanto quello che attualmente il Ministero e il Comune pagano, cioè i 3 milioni all'anno di canoni, canoni ed emaniali e fitti. Ovviamente questo ci... Come andò a finire questa vicenda? Che poi il sindaco di Bari dell'epoca, fatto il bando per la ricerca di mercato, e vinto questo bando proprio dalla Pizzarotti, contro altri tre poponenti, e cioè Matarrese, Mininni e Mazzitelli, vinto questo progetto, il sindaco, poiché eravamo a gennaio e ad aprile ci sarebbero state le elezioni e nuove elezioni, molto correttamente, ma forse ingenuamente, disse lasciamo che la delibera, l'appalto venga concesso dalla nuova amministrazione. Fatto sta che la nuova amministrazione fu a guida di centrosinistra, nel senso che vinse Emiliano, ed Emiliano, stranamente, dopo che fu eletto, pur avendo l'anno prima, un anno e mezzo prima, parlato della cittadella della giustizia in termini entusiastici, addirittura disse che per lui questa cittadella avrebbe significato il nuovo rinascimento della città, il fatto sta che una volta eletto, cambiò idea. Non so ancora perché, o meglio, sospetto di sapere perché, in quanto fece di tutto per non mandare avanti questo progetto. Quali erano i suoi sospetti, si può dire? Sì, che Emiliano evidentemente era stato finanziato da imprenditori baresi che nella loro pochezza e poca lungimiranza ritenevano di potersi sostituire, nelle erezioni di questo grande palazzo, a Pizzarotti, e quindi ci tenevano a farlo loro. E quindi avevano messo un cappio al collo di Emiliano ed Emiliano, obbediente, fece di tutto per evitare che il progetto, la proposta da Pizzarotti andasse avanti, al punto che, a spese del Comune di Bari, abbiamo sostenuto, la città di Bari ha sostenuto spese rilevantissime per giudizi al Tar, in Cassazione e al Consiglio di Stato, per evitare, giudizi promossi sempre dal Comune, per evitare che il progetto andasse avanti, che la proposta di Pizzarotti andasse avanti. Quindi Emiliano aveva interesse, forse, a far lavorare le imprese baresi? Questo è il mio sospetto, ho quasi una certezza, perché Emiliano non ha mai motivato seriamente la sua avversione post-elezione, perché prima era convintissimo della bontà del progetto, dopo, una volta eletto, cambiò idea, quindi che pensare? Devo pensare che è stato finanziato, a quanto pare, da questi imprenditori baresi che evidentemente credevano di aver messo il cappello sulla questione. Ancora una volta, diciamo, una cosa positiva, che è utile alla nostra città, si è bloccata per questioni politiche. Sì, i baresi devono sapere anche che è un'opera utile, perché non solo è grandiosa, ma soddisfa tutte le esigenze dell'amministrazione giudiziaria, con i pareri positivi, e lo stesso Ministero della Giustizia, ma è un'opera che costerà circa 350 milioni. Di questi 350, 300 rimarranno a Bari, perché Pizzarotti sarà il costruttore, però poi ci saranno gli appaltatori, i subappaltatori, e 2.500 operai che lavoreranno per due o tre anni di seguito, e quindi sono 300 milioni che rimangono nel circuito economico barese per dare nuova linfa alla situazione che oggi è in una crisi totale. Quindi è bene che i baresi lo sappiano, cioè non è per uno sfizio che uno segue e ne fa una questione di principio come l'ho fatta io. Come è andata a finire questa questione? La questione adesso, dopo che il Consiglio di Stato ha estromesso il Comune, nominando commissario ad acta, adesso è in sede europea. Posso dire che lo Stato italiano si sta difendendo molto bene, ma addirittura mi è arrivata una notizia che va confermata, che la stessa Germania è intervenuta a favore dello Stato italiano, quindi attenderemo ancora qualche mese per sapere quest'esito. Alla fine penso però che la questione, se si risolve favorevolmente, avrà già creato dei danni enormi, perché noi siamo ormai oltre dieci anni che stiamo aspettando questa opera, a questo ritardo e a danno di tutto il territorio. Bene, quindi speriamo che questa situazione si risolva, ovviamente nell'interesse di tutta la Puglia, non solo della città di Bari. La provincia di Bari, perché molti subappaltatori sono anche della provincia. Io spero di vedere inaugurato questo palazzo. E io le auguro di vincere questa battaglia personalmente, dato che è una cosa che sta a cuore. Grazie a tutti, perché è un interesse comune di tutti quanti. Io adesso cambiamo pagina e parliamo della persona, di Ettore Buccero, della sua carriera. È soddisfatto del suo percorso? Com'è nato Ettore Buccero, un avvocato? Io ho fatto l'avvocato, sto facendo l'avvocato, continuo ad esercitare la mia professione, ma non sono poi un personaggio tanto fuori del comune. Voglio dire, io ho fatto politica da quando avevo i pantaloni corti, quindi sono stato consigliere provinciale, quando allora il movimento sociale era all'opposizione, anzi era l'unica opposizione esistente. Poi un bel giorno dopo... Con quale partito entro in politica? Con il movimento sociale. Mi sono iscritto a 15 anni a quel partito e ho continuato in quel partito fino a quando quel partito si è tramutato in alleanza nazionale. E io sono entrato in Senato come movimento sociale nel 1994. Mi fu offerta la candidatura dall'allora onorevole Tattarella, Pinuccio, il quale mi chiese se mi offrì la candidatura al Senato al collegio di Bari 1. Gli chiesi, mi ricordo ancora quel giorno, quanto tempo mi dava per riflettere. Mi disse tutto il tempo che vuoi. Stavamo passeggiando per via a Bategimma, ci pensai dopo tre minuti, gli disse sì, accetto la... la candidatura ed allora è iniziata questa avventura, chiamiamola così, che è stata molto piacevole perché mi ha dato moltissima esperienza. Ho fatto il mio lavoro, che io ritengo apprezzabile, non per falsa modestia, ma ho lavorato moltissimo in Senato. Qual è la cosa che le sta più a cuore, che le ha dato più soddisfazione? Parecchie. Una di quelle che mi è rimasta dentro perché mi ha colpito molto è stata la difficoltà che ho avuto quando presentai il disegno di legge per far rientrare il Savoia in Italia. era una legge costituzionale, un disegno di legge costituzionale perché bisognava modificare la tredicesima disposizione. Io mi ricordo, c'ero anch'io a Roma e mi ricordo che interveniva spesso in Senato. Ma le difficoltà furono molte perché a sinistra non piaceva la semplice abrogazione della tredicesima disposizione che sarebbe scomparsa proprio dalla Costituzione nelle norme transitorie. Sarebbe proprio scomparsa. E allora per superare la sinistra perché avevamo bisogno di maggioranze qualificate, cioè oltre il 75% per evitare un eventuale referendum dovette accontentare le sinistre non abrogando la tredicesima ma dichiarandone cessati gli effetti in modo che rimanesse nel corpo delle norme costituzionali questo ricordo che c'era ma ormai non aveva più effetti. Con questo escamotaggio siamo riusciti ad avere una maggioranza qualificata e finalmente quello che io definì l'unico esempio di esilio nel mondo occidentale venne eliminato. Quella fu una delle cose che mi diede una certa soddisfazione. poi la banca d'altro del Senato mi ha fatto anche molta notizia perché mi ricordo quando era al Pantheon che appena sono rientrati Savoia sono andati a rendere omaggio al Pantheon lì al sepolcro il Savoia mi hanno nominato commendatore dell'ordine di San Maurizio e Lazzaro mi arrivò le insegne di questa penso per gratitudine nei miei confronti per aver il minimo posso dire molti mi presero per monarchico io dissi che era un problema soprattutto di cività ho detto perché l'esilio era una condanna che cadeva non sul re d'allora Umberto luogotenente ma sui figli e i nipoti e così via fino alla 17esima generazione che mi sembrava una cosa anche perché sono totalmente diversi cioè i figli sono così tranquilli si mettono lì in Rai fanno tante cose voglio dire non hanno più un ruolo politico molto qualcuno mi ha rinfacciato il fatto che attraverso di me Emanuele Filiberto ha potuto entrare in Italia ma invece di dedicarsi all'istituto della monarchia si è dedicato a un ragazzo certi show e non è più un ragazzo ormai no è vero c'è l'età mia forse più o meno è un ragazzino però è un ragazzino dai è un ragazzino va bene vorrei sull'ultima domanda il rapporto con l'ordine degli avvocati di Bari io nei confronti dell'ordine ho sempre un come dire essendo stato consigliere dell'ordine e poi segretario dell'ordine ho sempre un rapporto nei confronti di questa istituzione che voglio dire un rapporto come dire quasi affettivo nel senso che ho buonissimi rapporti anche se sono spesso critico in certi atteggiamenti per esempio vede combinazioni sono rimasto un po' deluso dal fatto che il consiglio dell'ordine in luogo di fare quello che abbiamo fatto noi negli anni passati quando abbiamo preso di petto la situazione e siamo andati dal sindaco e abbiamo fatto politica professionale l'ordine per quanto riguarda la cittadella ha alzato le mani ha detto se ne occupa la politica noi riteniamo noi siamo favorevoli alla sede unica cioè alla cittadella ma non ci interessa sapere dove è fatta come è fatta come viene fatta è un modo diverso di farsi valere come categoria tutte le categorie si fanno valere ma a Bari a quanto pare gli avvocati hanno il pudore di intervenire io non sono fatto così io se devo fare una battaglia la faccio in prima persona se fossi stato allora segretario o presidente dell'ordine degli avvocati l'avrei fatta a tutto campo senza pudori e senza preoccuparmi di pestare i piedi a certa politica bene io la ringrazio vorrei farle tantissime domande per la sua grande esperienza la ringrazio per averci ci abbandoniamo oggi e non ci vedremo mai no ci vedremo no dico la ringrazio per l'ospitalità perché siamo siamo nel nel suo studio qui a casa a casa del senatore e mi ha offerto anche un buonissimo caffè quindi adesso devo salutare i nostri spettatori e spero di vedervi presto alla prossima intervista dalla Gazzetta Meridionale e il programma a tu per tu ciao ciao